Buon sabato mattina, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati per questa rassegna stampa, occhio ai giornali. Prima di affrontare le pagine dei quotidiani che sono impregnate di politica, ma anche del fatto di cronaca l'incidente mortale avvenuto alla stazione di Fano ieri sera, di cui vi abbiamo dato anche notizia in un'edizione prolungata di Occhio alla Notizia, appunto, con il nostro direttore Marco Ferri. Prima di guardare tutto ciò, però, guardiamo l'almanaco del giorno. Oggi è San Placido, sabato 5 ottobre, il sole è sorto alle 7.10 e tramonterà alle 18.43. Ebbene, notizie anche dal tempo, vediamole subito, non sono affatto piacevoli, un weekend e anche un lunedì di pioggia, ma vediamo. Allora, come vedete dalla cartina che non lascia scampo a intuizioni, pioggia e nuvole, quindi cielo molto nuvoloso con nubi stratificate anche nel pomeriggio, le temperature in aumento, i minimi, ma i massimi sono stazionari e quindi fenomeni nessuno, ma tanta pioggia anche per domenica, come vedete, sia sulla costa che anche nell'entroterra, il cielo è nuvoloso e anche a tratti molto nuvoloso e le precipitazioni sono diffuse anche alle volte a carattere temporalesco. Vediamo lunedì, ecco lunedì diciamo che il cliché si ripete, il cielo è nuvoloso e le precipitazioni sono dappertutto nella nostra regione. Guardiamo anche le temperature, come dicevamo, Iesi 14-16, Urbino 14-12, Pesaro e Fano sono 13-18, queste le temperature di oggi, invece per domani, ecco Urbino è 13-10 gradi, quindi scendono le massime, Iesi 12-16, Pesaro e Fano 10-20 gradi di massima, come sentite anche in questo momento, perlomeno qui da noi sta tuonando e quindi il tempo non è sicuramente dei migliori. Allora, vediamo i giornali, come vi dicevo, molta politica, però anche la cronaca, vediamo come aprono le prime pagine i quotidiani. Partiamo dalla pagina del resto del Carlino, in fotonotizia, lavorare insieme, il Coworking apre anche a Pesaro, poi Viale della Repubblica al Risparmio, lavori, ed eccolo il titolo a piedi di pagina sul purtroppo sfortunato ragazzo di colore travolto e ucciso dal treno. Ma vedremo poi nelle pagine interne tutti i dettagli. Come apre il Corriere Adriatico? Qui apre in taglio centrale, credo nel lavoro di squadra, quello che dice Gianfranco Tonti, il neopresidente di Confindustria. Ecco attraversa i binari e un treno lo travolge, tragico incidente anche a Fano. Messaggero, anche qui taglio centrale Confindustria, si cambia marcia e poi la politica che riguarda Fano e la diatriba del PD, inviti e rifiuti sul mancato caffè in piazza e naturalmente la pagina del meteorologo, precipitazioni non violente ma persistente e quindi il tempo non ci dà scampo per un weekend da passare in giro per le nostre città, c'erano tante attività da svolgere anche fuori, tante iniziative anche nell'entroterra, purtroppo il tempo non ci aiuta a visitarle e a fare un weekend di questo genere. Partiamo con le pagine dei giornali, apriamo con il resto del Carlino, la prima pagina l'abbiamo vista, il nuovo viale della Repubblica è al risparmio e il Comune ha scelto i pedoni ciclabile rinviata. Il sindaco ironico, chi cammina in ciampa, erano lavori da fare, l'appalto da 900 mila euro, vedete nella foto il sindaco Ceriscioli, anche questi avveniristici pali della luce sono all'attenzione dell'amministrazione pesarese, chi cammina in ciampa, soprattutto in viale della Repubblica, lo ammette ridendo il sindaco Luca Ceriscioli ma lo fa ora che sa che lunedì 21 ottobre inizieranno finalmente i lavori. Per non creare troppi disagi e garantire circolazione pedonale durante l'intervento l'amministrazione ha studiato un escabotage, i lavori si svolgeranno in due fasi, niente di fantasmagorico ma i nostri pali della luce salveranno decine di alberi, sono questi qui, insomma sono oltre 10 metri di altezza, un braccio che si spinge verso la carreggiata per 4 metri e mezzo, questo consente di non sfalciare le chiome degli alberi, ecco come vedete nella foto. Ebbene, sempre dalla pagina di Pesaro del resto del Carlino una notizia di cronaca, ancora furti e qui insomma scatta anche un po' l'ironia perché a Pesaro c'è un quartiere che si chiama Case Bruciate e vediamo nella foto, è stato ahimè tristemente rinominato Case Rubate, l'inonia non manca agli abitanti di questo quartiere nonostante il blitz ladresco e depredate auto, capannoni e abitazione. Pare si trattasse di due batterie di malviventi e quindi insomma in due gruppi si sono accaniti su questo quartiere, un'altra folata di furti veloce ma messa a segno tra le 23 e l'una della notte, tra mercoledì e giovedì scorsi. E quindi andiamo alla pagina di Fano del resto del Carlino che è intrisa di politica ma anche purtroppo del brutto fatto, come dicevamo ieri avevamo il nostro cameraman giù che seguiva l'evolversi della situazione e quindi vi abbiamo dato notizia prontamente appena la cosa si è verificata. Vediamo come titola il resto del Carlino, travolto dal frecciabianca, chiedo scusa, mentre attende un treno. Pericolo, nei giorni scorsi anche un medico era stato risucchiato dal passaggio dei due convogli che pare passino a una velocità abbastanza elevata e però questa volta c'è scappato il morto come si suol dire. È un investimento il giovane, è un senegalese di 26 anni, è stato travolto e ucciso alle 20 e 15 dal frecciabianca Lecce-Venezia. L'onorevole Ricciatti che è arrivata poco dopo con un altro treno ha detto di voler chiedere l'accesso agli atti delle ferrovie. Purtroppo nell'incidente sono stati sollevati anche dei sassi che sono finiti nel bar della stazione e quindi hanno procurato anche altri feriti. E poi come vi dicevo la politica scende in campo anche Danna, adesso siamo al tutti contro tutti. E quindi l'ex vice sindaco, programmi fatti solo per campagne elettorali. Ironico, Danna, ci sono presuntuosi che sperano di cambiare l'economia globale da Fano. Vediamo ancora dalle pagine della cronaca e la faccenda della Profligras. Vediamo come si sta evolvendo. Profligras scatta l'allarme. I rischi messi in luce dal sindaco, il caso finisce dal prefetto. I numeri, naturalmente in ballo ci sono circa 600 posti di lavoro e bisogna muoversi tra l'altro velocemente. Ecco, preoccupazione del sindaco Stefano Aguzzi per la Profligras, la grande industria che lavora l'alluminio alle porte della città dopo il sequestro da parte dei carabinieri del NOE. E quindi una questione che riguarda un evento di solidarietà, la manifestazione per sostenere le malattie metaboliche ereditarie. Domani all'aeroporto torna Bambini in passerella. Era stata rimandata il weekend scorso appunto per il maltempo, ma pare che non gli sia andata molto bene anche questa volta. E poi l'arte paga la Valconca, grazie all'intervento della Banca Valconca, da sempre interessata al mondo dell'arte e al ripristino dei valori artistici e architettonici del nostro territorio, investe sulla Madonna col bambino in trono fra i Santi Elena, Zaccaria, Sebastiano e Rocco nella Pinacoteca Malatestiana. Tutto questo tornerà al loro originale splendore. Ancora dall'interno però, pagina del resto del Carlino, Pergola vuole fare il pieno con la tartufa, una kermess di grande crescita. Presenze allestito un ristorante con noti chef all'opera e anche Andy Luotto. Vedete qui la presenza l'anno scorso di Vittorio Sgarbi, Andy Luotto, tutti quanti ce lo ricordiamo insieme nelle trasmissioni televisive. Per farsi bello rubacreme in un negozio, vi abbiamo dato anche noi questa notizia, era un po' attempato e aveva una grande attenzione alla cura del corpo e all'immagine. Ci sono dei filmati che sono stati visionati dai militari, aveva colpito ben quattro volte. Ecco, c'è chi ruba per fame e eventualmente lui pensava più alla parte estetica. Oggi a Fano si chiude la settimana africana, tante sono gli eventi, le manifestazioni che si tengono in questa giornata di chiusura, c'è anche la notte nera e poi la consegna del premio o l'Africa nel cuore. Quest'anno va a Lampedusa perché a Lampedusa, sapete, ci sono stati oltre 300 morti per la tragedia dell'immigrazione e quindi l'Africa premia col suo riconoscimento l'Africa nel cuore il comune di Lampedusa per quanto stanno facendo in questo momento per queste genti. Cambiamo testata, andiamo al Corriere Adriatico, l'apertura l'abbiamo già vista, la politica in testa, Ricci, ripartiamo dallo spirito di Don Gaudiamo, Ricci, il presidente della provincia, a vent'anni dalla scomparsa del sacerdote. Bisogna ascoltare i bisogni, significa battere le barriere, la lezione di Don Gaudiano anche per la politica. Confindustria è un lavoro di equip per l'innovazione, questo è quello che è il live motive del neo presidente e naturalmente anche la vicenda del Viale della Repubblica per quanto riguarda appunto Pesaro. Per concludere l'opera il prossimo sindaco dovrà occuparsi di valorizzare il largo Aldo Moro, quindi il sindaco uscente detta anche un po' l'agenda del futuro sindaco. Ancora politica, l'analisi e poi il nome, le elezioni e le candidature e marchetti detta l'agenda pesarese che va verso appunto il voto. In primavera andranno al voto una cinquantina di comuni. Nulla, c'è nulla appunto di scontato in nessuna di queste realtà. Pagina di Fano appunto del Corriere Adriatico apre in titolo centrale appunto con la vicenda del ragazzo di colore travolto e ucciso dal treno. Attraverso i binari è travolto. Scena agghiacciante, come ha detto più volte anche il nostro direttore Marco Ferri in diretta ieri sera, la scena era veramente agghiacciante. Noi avevamo il nostro operatore Andrea Lombardi che ci mandava foto e ci riferiva sugli eventi ed erano veramente delle scene agghiaccianti, quelle che si sono presentate agli investigatori. Sul posto arriva anche il sindaco. Vedete nella foto gli addetti anche della scientifica che portano via i resti del malcapitato ragazzo. Ecco erano le 20 e 15 quando appunto il Freccia Bianca è transitato. Impossibile ahimè identificare a prima vista la vittima perché c'era rimasto ben poco del corpo. Le versioni diverse, tale più accreditante c'è quello di Stefano Fava che attendeva sul primo binario e dichiara ho visto un uomo di fronte alla biglietteria proprio vicino a me mentre attraversava i binari per cercare di raggiungere un treno arrivato sul secondo binario. Mi sembrava la scena di un film che non ho potuto vedere e ho chiuso gli occhi agghiacciante. Beh sicuramente insomma purtroppo sono stati brutti momenti anche per chi era lì. Marchegiani non si presenta. Altre stoccate di Stefanelli. Questo è il mancato caffè in piazza tra i due esponenti del PD e poi sempre da Fano l'articolo di Massimo Foghetti in 600 con il fiato sospeso. Questo riguarda appunto la Profiglass. 600 sono i dipendenti che attendono appunto risposte da questa vicenda perché il posto di lavoro purtroppo è vitale per loro e le vicende legate all'azienda stanno veramente a cuore di oltre 600 famiglie. Ed ora sempre da Fano, segnali positivi per Franchi. Revocata la misura degli arresti domiciliari accolta dal riesame. La parola adesso passa al PM. Potrebbe già tornare libero lunedì l'ex primario del reparto di pediatria. E poi un fatto che riguarda la caccia. Viene insomma un cacciatore denunciato e sequestrato il suo fucile. E poi boom di iscrizioni alla Nuti. L'attacco di Antonioni, l'ex amministratore, appunto era necessario un meccanismo di selezione. Scassa programmazione e nessun criterio per una equa distribuzione delle domande. Appunto c'è stato, come vediamo nell'articolo, un boom di iscrizioni al Nuti. Quindi che creano sicuramente qualche disagio, questo repentino aumento di iscrizioni. E poi notizie flash. Domani il parcheggio chiuso dalle 20 alla caserma Paolini per fare la segnaletica orizzontale. E poi cucinetica alla notte nera, come vi dicevamo. E naturalmente è stata revocata, come vi abbiamo anche detto noi, i valori sono rientrati nella norma, la rete idica del prelato. Ecco, ora è tutto a posto. Fano e Valcesano all'interno. La notizia dei furti dei cosmetici per questo ultra sessantenne, per ben quattro volte. Grande attenzione alla cura del corpo, ma si ahimè dimenticava di pagare. E poi la fiera del tartufo. C'è area di record. Questi eventi catalizzano l'attenzione di tante persone e di tanti appassionati di queste leccornie. E quindi insomma c'è grande afflusso anche per passare una domenica un po' diversa. Quindi insomma a Pegola sono attese tante persone. Cambiamo testata. Questa è la pagina del messaggero che vi abbiamo fatto vedere in prima battuta. la politica anche quella di Urbino e riguarda Giovannelli, il candidato sindaco di Urbino che spunta e la vicenda di Zaffini, quella che naturalmente vi abbiamo detto prima. Vediamo anche qui il messaggero titola con Confindustria al cambio di vertice. e naturalmente andiamo anche a vedere le pagine che riguardano Pesaro e Provincia. Zaffini sospeso dalla Lega e Donne Azzure pro Berlusconi. Quindi la politica tiene banco anche in questa pagina. E poi una cosa che riguarda l'ex Bramante a Pesaro, la scelta spetta al Comune. Il capogruppo PD Ciancamel risponde picche alla provincia. Il Comune deciderà le destinazioni dell'ex Bramante e non la provincia. L'area va ridisegnata salvaguardando la piscina e limitando il carico di appartamenti e commerciale. E quindi importante, pochi appartamenti e aree commerciali, l'area va riqualificata a favore della città. E la micropiscina non si tocca. Ecco, vedete anche i pali della luce che vi abbiamo dato conto vedere prima. L'intervento durerà fino a primavera del 2014 e costerà 4 milioni. Flutto dello sblocco del patto di stabilità. Patto di stabilità citato anche ieri in un'intervista dal nostro sindaco Aguzzi. Che sembra essere questo un problema per molti comuni. Ed ecco, vediamo, per Urbino, sindaco, spunta anche la candidatura di Giovannelli. Quindi anche per la città candidata a capitale della cultura europea, spunta un'altra candidatura, il sindaco Giovannelli. E come di consueto, chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero. Vediamo in titolo centrale la questione della profigas. Il sindaco lancia un appello, perché Aguzzi ci lavorò in passato, necessaria una soluzione rapida. Questa sempre per la questione dei posti di lavori. Il sequestro del deposito da parte del NOE ha fermato la produzione. Appunto, a rischio. Il posto di quasi 600 persone. E poi via Magnanini, la protesta fa breccia. Il primo cittadino apre alle richieste dei residenti. E poi chiudiamo con la questione della settimana africana. Ma non solo, perché torna anche un'altra manifestazione. Arti e mestieri. Che si svolgerà appunto oggi e domani dalle 16 alle 21. Il nostro centro storico sarà invaso da questi artigiani, questi mestieranti. Che riporteranno in auge appunto gli antichi mestieri. E poi c'è la conclusione della settimana africana con la notte nera. Bene, per questa mattinata la rassegna stampa si chiude qui. Torna lunedì mattina alle 7.45. E questa sera le notizie tornano con occhio alla notizia il nostro TG. Arrivederci e buona giornata a tutti voi.